Sono state aggiornate le misure relative al rischio sismico del piano di protezione civile comunale. Nell'area del comune di Napoli, classificata come zona sismica 2, cioè soggetta a media sismicità, sono state individuate 129 aree di emergenza da utilizzare come aree attesa, presidio radio e ammassamento per la popolazione in caso di scossa sismica. Le aree sono distribuite in maniera uniforme in tutte le 10 municipalità e saranno indicate alla cittadinanza attraverso apposita segnaletica. Sul sito www.comune.napoli.it è consultabile l'elenco completo delle aree visualizzabili attraverso Google Art e sono disponibili tutte le informazioni legate al rischio sismico con degli utili suggerimenti per la popolazione.